Ciao a tutti, oggi è lunedì 6 agosto 2018, siamo qui in Piazza Perosi, nel mercato rionale del quartiere Orti. Sono qui con il professor Manzini. Buongiorno, è un piacere ogni lunedì venire qui in questo mercato, il mercato dei contadini per ritrovare sapori, odori, linguaggi di una volta. Adesso siamo in agosto, il mercato non è molto affollato, anche di banchi, però d'inverno effettivamente abbiamo un sacco di bancarelle dove vengono ancora le cose di una volta, dalle acciughe alle aringhe a tutte quelle, alle semente, alle radici, alle piante, alle piante da piantumare. Ecco qui abbiamo tutta l'attrezzatura per il lavoro in campagna, tutte le verdure, tartufi, ciao bello, qui abbiamo gli animali, ecco uno può comprare a un buon prezzo e con garanzia anche delle uova e quindi io credo e invito tutti il lunedì a farsi un bel giro qui in Piazza Perosi, soprattutto d'inverno perché c'è proprio un'atmosfera, un'atmosfera, c'è anche? C'è un'atmosfera di altri tempi, andiamo avanti, ancora qualche ripresa, dei frottetti e degli orti del circondario, ma anche a guardare i prezzi, anche a guardare i prezzi sono buoni eh? Sì sono buoni e poi soprattutto quello che sicuramente vi diverto di questo supermercato credo la qualità. Ecco, una bella panoramica, in fondo poi abbiamo tutti i banchetti diciamo dell'atterramenta, ecco che anche lì è molto interessante perché spesso trovi degli attresti che da altre parti non trovi. Vogliamo andare velocemente o finiamo le riprese qui? Ecco, rostriccerie, questo è un bel banco qui, guarda questo bel banco qua, questa, questa, guarda questa, 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 questi saperi, questa gastronomica, questa gastronomica, tutto, 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 cagiamino, tutto artigianale, eh? Va beh. Un bel banco dei formaggi, tartuffi, tartuffi, un bel banco di frutta e verdura a prezzi molto buoni, in frutta. Guarda qua. Vedi, formaggi, proprio banchi che stuzzicano sia la vista che l'appetito, odori, eh? Ecco, andiamo verso, verso la zona, diciamo, più legata ai lavori, ferramenta. Naturalmente d'inverno, come ho detto prima, la piazza è molto appollata di banchi ma anche di persone ed è un piacere ritrovarsi qui. Più che in inverno è nelle stagioni di mezzo. Sì, in autunno, sì, ma anche, sì, in autunno, guarda, guarda che bella panoramica qua, eh? È una bella, eh, ombreggiato bene, eh? È bella ombreggiato, perché... Va bene, ok, terminiamo qui, eh? Un saluto a tutti, l'ultimo saluto fallo tu, Gianni, ai tuoi affezionati spettatori, ciao. Io saluto tutti, ci si vede poi in un altro video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.